Aggiornati, ora donne whisky e marihuana. E tu? Ehi! Ah, come va? Oh, scusi signorino, a momenti la sporcavo il suo tre quarti. E piantala. Noi pensavamo che tu non tornassi più, eh? Sì. Prezzo di fetente, nemmeno una cartolina, eh? Già, con tutto il da fare che avrai avuto, poi mi racconterai. Sì, ti racconterò. Ma tu non dovevi diventare padre.